Ok ragazzi è arrivato quel momento di Into the Light che in tanti aspettavano, il momento in cui parliamo della famosa Vetta, una delle armi più iconiche degli ultimi anni di Destiny, un'arma che è stata al vertice per tanto tempo e che ora è tornata in una seconda versione che al primo sguardo ha lasciato delusi un po' insomma diciamo tante persone perché ovviamente le aspettative erano alte, però Destiny al tempo era un altro mondo ragazzi, c'era un altro meta, altre armi, non c'erano le sottoclassi 3.0, non c'era l'artefatto, insomma era praticamente un altro gioco, però sono convinto che un ruolo alla nuova Vetta Bungie l'abbia voluto dare con dei roll ben precisi che andremo a vedere proprio nel video di oggi. La rubrica delle armi di Into the Light spero che vi stia piacendo, la prossima arma di cui vi parlerò sarà il colpo di mezzanotte quindi come sempre vi suggerisco di iscrivervi al canale se non volete perdervi nessun altro video di questo tipo. Di solito i video su queste armi sono di norma molto brevi quindi mi limito a dirvi quali sono i roll e buonanotte al secchio, probabilmente sulla Vetta invece dovremmo dilungarci un pochino perché se lo merita e vanno spiegate un po' di cose prima di arrivare a capire perché quello che vi farò vedere per me è il godroll dell'arma. Allora partiamo da un presupposto, per cosa si utilizzava la Vetta al tempo? La Vetta si utilizzava un po' per tutto, essendoci poche alternative si utilizzava per via del suo danno per fare le rotazioni contro i boss grazie soprattutto ad una fazione, si usava anche per pulire gruppi interi di mob per via del suo grande raggio di esplosione e si utilizzava per fare i maggiori con un colpo solo o comunque con pochi colpi proprio per via del suo danno. Con il tempo dopo il sunset i lanciagranate sono stati portati sempre più verso il basso e confinati ad un ruolo di supporto soprattutto con le granate accecanti. Con l'avvento dei lanciagranate adondate è stato ripreso un po' lo spirito di usarli perché ad oggi probabilmente l'acquiscienza è una delle armi più forti del gioco per la pulizia e quindi rimane scoperto il ruolo di damage dealer diciamo così che la Vetta in parte ricopre. Micro missile è diventato un perk intrinseco e non più un perk normale quindi ha creato praticamente una nuova categoria che di base permette alla Vetta di fare più danno di un semplice lanciagranate classico con le frontali. E quindi già questo è un punto a suo favore, in più grazie ai suoi perk che possono rientrare in diversi stili di gioco ha del potenziale. Ma partiamo proprio da questo spazio che c'è libero diciamo nel meta e cioè il danno diretto dei lanciagranate. La Vetta ovviamente è nello slot primario, è un'arma cinetica che potrebbe anche rientrare nelle rotazioni di danno con alcuni roll particolari tipo ricombinazione o arma vorpal però non dobbiamo scordarci che in questo slot ha un concorrente quasi sleale direi e cioè il fardello di Izanaki. Principe se non re delle rotazioni per fare dps ai boss e quindi un alto ruolo diciamo così che se ne va. Però ha anche dei buoni perk per fare pulizia come uno per tutti, fernesia, assassino ambizioso o stra arrivamento. Però qui rientriamo nella categoria degli ondate che abbiamo già visto che fanno questo lavoro molto meglio perché il nerf che è stato fatto a raggio d'esplosione si sente e se decidete di colpire non direttamente un gruppo di nemici e quindi di sparare nel mucchio o di sparare per terra questa differenza si farà sentire. E quindi ancora una volta fate tutte queste premesse, qual è lo spazio della vetta? A mio avviso il suo spazio è lì, tra i danni ai boss e la pulizia e cioè un'arma che ci permette di fare velocemente e in maniera molto efficace gialli e maggiori con un colpo solo. È l'unica cosa che è in grado di fare con un colpo solo e veloce rispetto a tante altre armi e dove probabilmente eccelle, almeno per il momento. Certo voi mi direte è poco rispetto a quello che siamo abituati a vedere dalla vetta, però tenete a mente che tra non molto il meta cambierà con l'arrivo di The Final Shape, vedremo i soliti cambiamenti che Bungie avrà in servo per noi e vi ricordo inoltre che le armi di Into the Light potranno essere potenziate all'enclave e quindi tutti i perk potranno essere molto migliori e magari cambiare un po' le carte in tavola. Per questo ora andremo a vedere i vari roll che ci potrebbero interessare. Inizierei da quello che mi avete visto usare fino adesso e che reputo la cosa migliore che in questo momento ha da offrire la vetta, cioè lancio duro oppure lancio veloce con granate frontali, fondina autoricaricante e ricombinazione, volendo prodigio in velocità. Questo permette alla vetta di avere un proiettile veloce e letale e di essere usata solo nel momento che di fronte a noi abbiamo un nemico che non riusciamo a buttare giù con la nostra arma per pulizia, che potrebbe essere un impatto solare, ma diciamolo è l'arma più usata in questa stagione e magari non vogliamo usare le pesanti. Ricombinazione con tutti i modi che abbiamo di pulire i piccoli mob lo caricherete molto velocemente e se avrete la possibilità di attivarlo fino al per 10 la vetta farà letteralmente il doppio del danno con un singolo colpo, che non è affatto male. In base al contesto sarete in grado di shottare chiunque o di togliergli un bel pezzo di vita che è sicuramente meglio che stare lì magari a mirare e a prendere il punto critico con l'Izanaki che comunque vi blocca uno slot esotico. Quindi questo ruolo potrebbe andare bene per assalto furioso, per i raid nei ruoli di pulizia e negli step senza boss rotation, GM stando attenti comunque di avere sempre coperti i ruoli per i campioni e nel gameplay generale. Veloce, pratica e letale. Questo è il role che consiglio in questo momento, in questo meta secondo me ha questo spazio. Ma la vetta ha anche altri role che possono essere interessanti per altri utilizzi e che magari potranno prendere valore più avanti, visto che ce l'abbiamo ora in rotazione e un paio di role si possono mettere da parte per il futuro se magari Bungie deciderà di cambiare qualcosa. Le prime due colonne rimangono invariate sempre, rispetto ai lanciagranate pesanti dove frontali è cambiato, sugli speciali è rimasto uguale quindi è sicuramente da avere. Ah, parentesi, se avete un role con le granate sticky, tenetelo perché è quello che vi permette di fare dei trick con i salti, alta temperatura e poi che vi fanno volare molto in alto se volete schippare degli step, insomma speed run, roba del genere. Da tenere a mente quindi se volete e se trovate un role con quel tipo di granate, tenetelo da parte. Però se pensate di utilizzare la vetta come se fosse una primaria, quindi dovete cercare di farla ricaricare il più velocemente possibile per pulire nella maniera più efficiente possibile, giusto? Quindi, come possiamo fare? O attiviamo frenesia, che porta a 100 il role speed, però dovete tenere a mente che dovete essere in combattimento e si procca dopo 12 secondi. Vero, vi dà anche il 15% di danno in più, però si può attivare, poi disattivare, eccetera eccetera, insomma non è che sulla vetta secondo me eccelle così tanto. Perché in alternativa potete utilizzare amplificatore di impulsi, che sulla vetta è un ottimo perk, che senza fare niente vi aumenta la velocità di ricarica e la velocità di proiettili di base così, senza fare niente. A questo punto se scegliamo questo nella quarta colonna possiamo scegliere qualcos'altro. Visto che il suo ruolo è la pulizia, colpiremo tanti bersagli, quindi scarterei frenesia in questo caso e lascerei furia, dipendente da adrenalina e uno per tutti. Armonia anche lo scarterei perché dura troppo poco e poi chiede comunque di utilizzare altre armi per attivarlo. Furia dura 4 secondi, veramente troppo poco anche se arriva al 33% in più. Dipendente da adrenalina è un perk che a me personalmente non fa impazzire, però se avete building centrate sulle granate userete quelle per pulire e quindi non so quanto vi servirà avere anche la vetta per pulire, anche se comunque anche questo arriva a un 33% in più. Nonostante non sia un fan opterei per uno per tutti che dura 10 secondi e vi basta colpire 3 bersagli per portarlo al massimo. Se usate la vetta per pulire arriverà a per 3 molto facilmente, diciamo così. Quindi con amplificatori e uno per tutti avrete la vetta più veloce e letale possibile per la pulizia. Ripeto, in un meta però dove ci sono armi che fanno questo lavoro molto meglio trova poco spazio un roll così, però non è che sia completamente inusabile, ok? Roll intermedi come dal piombo all'oro e arma vorpal per danno ai boss e una buona dose di munizioni in più non è un brutto roll, così come assassino ambizioso e frenesia che vi permette di avere due colpi dopo la prima kill, il danno di frenesia e la velocità di ricarica di frenesia non è un brutto roll. Tenete a mente stra arrivamento che con the final shape e il suo perk potenziato vi permette di arrivare a 3 colpi nel caricatore anziché 2 e potrebbe essere interessante da avere, magari in combinazione proprio con arma vorpal in una damage phase magari, sparare 3 colpi di vetta un dietro l'altro potrebbe essere interessante, chi lo sa. Insomma, come vedete la vetta potrebbe avere diversi ruoli in questo momento ma solo uno a mio avviso ha uno spazio in questo momento e cioè fondina ricombinazione, gli altri diciamo che dovranno prendere spazio nel tempo in base a quello che deciderà di fare Bungie con il meta. Ora però spetta sempre a voi, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con il mio ragionamento e se lo ritenete giusto o seppure pensate di andare a trovare dei roll diversi rispetto a quelli che vi ho fatto vedere io. Se è così fatemelo sapere nei commenti qui sotto perché magari chissà mi farete cambiare idea. Se siete arrivati fino a questo punto del video io vi ringrazio moltissimo, lasciatemi un like al video se vi è piaciuto e se vi piacciono i contenuti che porto considerate la possibilità di abbonarvi al canale perché sarebbe un supporto gigantesco per me e per continuare a creare contenuti. Voi potrete usare le emot nei commenti qui sotto e venire riconosciuti dalla community alla fine del video proprio come adesso. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a tutti.